La comunità cristiana nasce e rinasce continuamente da questa comunione eucaristica. Vivere la comunione con Cristo è perciò tutt'altro che rimanere passivi ed estranearsi dalla vita quotidiana. Al contrario, sempre più ci inserisce nella relazione con gli uomini e le donne di nostro tempo, per offrire loro il segno concreto della misericordia e dell'attenzione di Cristo.